Ciao a tutti, beh, sono emozionatissimo, quindi portate pazienza, è la mia prima convenza. E quindi, niente, io appunto, beh, mi presento velocemente per chi magari non mi conosce, mi chiamo Enrico Grotto, mi occupo di grafica e comunicazione e negli ultimi anni appunto specializzando appunto nel product rendering con Blender e in generale appunto in vari ambiti legati al programma e anche alla formazione del programma come formatore accreditato dell'associazione Blender Italia che approfitto per ringraziare e ringrazio anche tutti i presenti per appunto anche l'opportunità di condividere appunto questa esperienza dell'utilizzo di Blender come appunto strumento di supporto all'ufficio marketing e comunicazione interno all'azienda. Quello che è stato il mio, diciamo, percorso verso il product rendering con Blender, appunto oggi riassumo un paio di esperienze lavorative in aziende diverse, di due settori completamente diversi e sostanzialmente una si occupa della produzione di caldaie e sistemi di riscaldamento a biomassa e climatizzazione per l'aria e l'azienda invece per la quale lavoro attualmente, la Terraplast S.p.A., si occupa di produrre basi in plastica da giardino e comunque diciamo articoli per la cura del verde. Sostanzialmente ho iniziato, perché Blender? Ho iniziato appunto a utilizzare il rendering 3D in ancora precedente esperienza lavorativa con dei software commerciali e lì diciamo è stato letteralmente amore a prima vista per me per il rendering perché come grafico diciamo ci ho visto veramente grandi opportunità di potermi creare in autonomia quelli che erano i contenuti che poi dovevo utilizzare appunto per pubblicizzare i prodotti. Solo che sostanzialmente i software commerciali li utilizzavo prettamente al lavoro e avevo bisogno di una soluzione che mi permettesse anche di formarmi in autonomia e per me diciamo i software commerciali al tempo erano poco accessibili e anche la formazione per i software commerciali era poco accessibile e quindi sostanzialmente è rimasto un lavoro che svolgevo in modo saltuario solo al lavoro. Poi parlando di un giorno con il mio collega che ringrazio sostanzialmente mi ha detto ma hai sentito parlare di Blender? È una software 3D open source gratuita per la produzione di contenuti. e incuriosito ho iniziato a fare delle ricerche e sono approdato diciamo con i corsi di Francesco che non finirò mai di ringraziare perché è anche grazie a lui se sono arrivato dove sono arrivato oggi con Blender e qui dopo i corsi base ho conosciuto anche l'associazione Blender Italia dove ho potuto avere delle formazioni di qualità riconosciute anche a livello professionale e ottenere anche degli attestati e dei certificati. Qui sono stato proprio preso dalla community di Blender e dal mondo di Blender e mi ha appassionato talmente tanto che in un certo senso volevo a mio modo ridare qualcosa alla community e quindi ho iniziato anch'io a fare corsi di formazione per diffondere l'utilizzo del programma anche all'interno delle aziende. Ho fatto tutto il percorso per diventare formatore accreditato partendo con i corsi, facendo formazione con dei corsi base tramite un'associazione della mia zona il Mega Hub che oggi è anche una sede formativa accreditata e poi specializzandomi sempre di più sono arrivato a fornire appunto i corsi anche alle aziende in ambito proprio di Product Rendering. Questi velocemente sono i primi risultati con Blender realizzati appunto dopo aver seguito i corsi di Francesco. La macchina non l'ho fatta io, è semplicemente uno dei tanti modelli 3D che grazie alla comunità di Blender si trovano disponibili online e permettono di creare delle composizioni di scena e nel caso mio appunto mi serviva per studiare un po' tutta quanta le scende di illuminazione e IVI. Questa è un'immagine simbolica, è la prima immagine che ho realizzato quando ho iniziato a lavorare appunto per questa azienda e sostanzialmente loro utilizzavano il rendering solo per qualche visualizzazione di prodotto ma non in modo diciamo integrato con l'ufficio marketing per produrre tutte quante le immagini relative diciamo alla comunicazione del prodotto. E quindi ho introdotto Blender in azienda e l'azienda non ha avuto niente da dire anche perché essendo gratuito il software non comportava nessun costo aggiuntivo di licenza se non le ore di lavoro delle persone che appunto si prestava a fare questo compito. E il primo piccolo unico scoglio devo dire che ho trovato è stato quello di gestire diciamo i modelli CAD all'interno di Blender che nativamente non può importare diciamo i modelli CAD anche data l'assunatore open source non può avere all'interno magari dei convertitori con dei formati commerciali proprietari magari del software CAD. E quindi diciamo il primo metodo che ho trovato era appunto quello di farsi esportare direttamente dal progettista il file in formato OBJ ma comunque comportava una sorta di rimbalzo tra me e il progettista per gestire quella che era la risoluzione della mesh quando mi veniva passata dal CAD a volte mi arrivava con bassa risoluzione oppure a volte troppo alta a volte mancavano componenti quindi c'era anche poi tutto un lavoro da fare preparatorio del modello 3D perché in Blender l'OBJ derivante dal CAD veniva interpretato come un unico oggetto sostanzialmente e quindi poi dovevo separarlo. Dopo le continue ricerche a rimarcare il fatto che la community di Blender è veramente vasta e per Blender si trovano soluzioni dappertutto all'ennesima ricerca parola chiave sarai su Google import step in Blender finalmente mi è apparso questo add-on che sostanzialmente ci dà la possibilità di importare direttamente i file step nativamente all'interno di Blender visto il prezzo non ci ho pensato un attimo l'ho acquistato io, l'ho fatto acquistare anche all'azienda e con questo software, scusate con questo add-on noi abbiamo la possibilità appunto di importare i file CAD all'interno di Blender il primo passaggio che ho scoperto, diciamo, fare o meglio che bisogna fare è, tra virgolette, pulire un po' il file step perché ogni CAD lo scrive a modo suo quindi con FreeCAD, anch'esso open source vado ad aprirmi il modello 3D seleziono i solidi che mi interessano e poi vado a riesportarlo nuovamente in formato step in questo modo FreeCAD va a riscrivere il file e ho visto che mi risolveva praticamente tutti i problemi di importazione che poi avevo eventualmente con Blender anche perché i modelli CAD sono molto complessi e appunto variano a seconda del software che ha scritto il file a questo punto si può importare il modello all'interno di Blender e l'add-on è veramente funzionale perché ci dà anche tutta una serie di parametri di importazione e quindi diciamo che da questo punto in poi siamo autonomi nel gestire un file step che è un file normalmente utilizzato dai progettisti come file di interscambio anche tra i loro progetti possiamo gestire la scala di importazione Mesh Detail, penso quello più importante perché questo parametro permette di decidere la risoluzione con cui viene importata la mesh all'interno del software e quindi potete fare delle importazioni ad hoc a seconda se dovete creare magari dei rendering macro con dei dettagli di prodotto oppure se vi serve una mesh diciamo un po' più leggera per fare delle animazioni successivo avrei l'orientamento perché nei file CAD l'orientamento Z non è sempre di default verso l'altro ma magari utilizzano le Y quindi cambiando l'orientamento possiamo importare il file all'interno di Blender e l'organizzazione anche del file perché all'interno del file step è anche scritto come sono organizzati i vari gruppi di oggetti presenti dentro al progetto e quindi qui possiamo decidere come verrà interpretato poi dall'outliner di Blender con i parametri standard delle add-on ci ritroviamo con un'importazione come questa quindi data la complessità del modello CAD tutto sommato siamo su una mesh leggera da gestire magari un po' poco dettagliata l'unica cosa che a me non andava diciamo bene erano i 76 empty con cui l'oggetto veniva tenuto insieme perché abituato a lavorare con le collection diciamo avrei dovuto poi separarmi i vari componenti dell'oggetto in sotto collection e fare un lavoro tutto preparatorio dopo vari test di importazione ho scoperto che con questi parametri riuscivo a importare direttamente il file passato dal mio progettista sempre allo stesso modo e sempre con la stessa risoluzione e quindi diciamo impostando il parametro giusto di scala il mesh detail e l'orientamento e l'organizzazione a collection quello che ottengo è sostanzialmente questo una mesh diciamo high poly ad alto livello di poligoni con la scala da applicare ovviamente ricordiamoci sempre di applicare la scala e organizzata in collection adesso non ho fatto il screen di tutte le collection però l'organizzazione è molto simile se non identica quella dell'albero di costruzione sviluppato all'interno del CAD quindi quella stessa gerarchia con cui è stato scritto il file step varie operazioni di ottimizzazione ai modelli praticamente vado a fare la solita regola praticamente risolvo vertici duplicati applico le scale a controllo l'orientamento nei normali ma soprattutto vado a nascondere tutto quello che non mi serve renderizzare di quel modello ottenendo così una mesh molto più facile da gestire anche a livello di memoria e di RAM a questo punto ci ritroviamo che in Blender siamo riusciti finalmente ad importare il nostro modello 3D CAD direttamente dal progetto quindi abbiamo un modello ideale e tutto con le dimensioni corrette a questo punto dobbiamo svilupparci dei materiali per comunque vestire il nostro prodotto e poi eseguire il rendering normalmente quando inizio diciamo i progetti o comunque in questo caso quando ho iniziato a lavorare per questa azienda non c'era ancora l'asset browser di Blender ho organizzato un file di Blender con tutta la libreria dei materiali presenti nelle finiture dei prodotti e grazie agli strumenti della viewport di Blender ho potuto insieme alle proprietà e ai responsabili concordare l'aspetto di quei materiali e quindi anche in modo dinamico molto grafico e molto veloce definire quelli che erano appunto i materiali corretti per rappresentare gli oggetti non vi farò vedere tantissimi materiali vi faccio vedere quelli magari con cui ho litigato un po' precedentemente i fuochi nelle stufe li inserivo con Photoshop mi sono appassionato a Blender mi sono intestradito ho detto no, io il fuoco lo voglio mettere direttamente dentro alla stufa durante il rendering e quindi mi sono praticamente organizzato e ho creato, o meglio abbiamo acquistato delle immagini di un fuoco su fondale nero e queste immagini le ho poi mappate su una mesh e tramite questo semplice setup di nodi con lo use saturation mi posso gestire quello che è il tono di colore della fiamma con il nodo emission vado a dare quella che è la luminosità e grazie al canale alfa contenuto nell'immagine posso lavorare con la trasparenza e quindi l'unica cosa che vedo è la fiamma poi sono andato appunto a crearmi questo piccolo diciamo zona di test per capire come la fiamma lavorava all'interno della stufa e ho realizzato una mesh questa volta invece che piana un po' più organica per dare diciamo un aspetto un po' più 3D alla fiamma e ho diciamo rafforzato l'effetto idealizzato un po' quello che poteva essere il focolare aggiungendo una point light che ha bisogno può essere anche animata per creare il flickering del fuoco insomma comunque quel tipico lampeggio che fa la fiamma l'altro materiale con cui ho imparato a non dare d'accordo grazie a Blender e il vetro credo uno dei più tecnici da renderizzare nel mondo del rendering e qui sostanzialmente sono andato a crearmi un setup prendendo diciamo varie tecniche che ho visto online dalle varie community, vari tutorial visti online e mixando così il materiale elettro non sono un matematico non riesco a dire però comunque con questo setup come unico punto di controllo ho la curva RGB e la curva RGB mi permette di mixare quello che è il fattore di trasparenza o riflessione del vetro e quindi con un controllo molto artistico posso andare ad agire sui riflessi che ho sui vetri dei prodotti per andare a idealizzare le foto se ho bisogno di meno o più riflesso appunto a seconda delle esigenze di scena qui è un setup molto simile proprio per farvi vedere la differenza questo è uno dei prodotti commercializzati dell'azienda dove lavoro adesso sono dei sassi in plastica contenuti in un vaso trasparente di plastica trasparente e potete vedere come con il glass shader standard di Blender che va benissimo non riusciamo ad illuminare bene il contenuto dei vasi perché i light bounce sono troppo bassi quindi non riusciamo a completare quello che è il calcolo e quindi ci genera queste macchie nere la prima soluzione è quella di alzare il light bounce ma quello che otteniamo è un aumento del tempo di rendering e soprattutto in ambienti aziendali diciamo si cerca sempre di ottimizzare quanto più possibile quelli che sono i tempi di produzione quindi attivando diciamo il fake glass noi riusciamo intanto a tenere bassi quelli che sono i light bounce ma soprattutto a ridurre appunto quello che è il tempo di rendering e io riesco ad ottenere rispetto all'immagine precedenza una brillantezza diciamo maggiore del prodotto contenuto perché qui il realismo si ha senso ma diciamo che lo scopo è proprio quello di far vedere il prodotto nel migliore dei modi possibile questo è un altro materiale che ho sviluppato di recente che è appunto il materiale di cui sono composti questi sassi in plastica e sempre grazie a Blender non ho avuto nessun problema a svilupparlo grazie a una serie di mappature generate appunto con le texture procedurali di Blender e mixate assieme ho potuto crearmi varie maschere di variazioni di toni, superfici e colori per creare poi quello che era il modello definitivo il materiale che poi è stato utilizzato cambiando semplicemente i valori della colorama ho potuto diciamo generarmi le tre varianti del materiale se dovrebbe partire questa è una piccola curiosità per realizzare i sassi all'interno del vaso non li ho posizionati a mano sarebbe stata una cosa veramente lunga ho utilizzato ancora Blender per creare praticamente una simulazione Rigid Body che mi ha permesso di ricreare in modo molto realistico quello che era il contenuto all'interno questi poi sono i primi rendering realizzati appunto per questo prodotto e questa è un'altra finitura questa è la finitura principale che utilizziamo sui nuovi vasi del nuovo brand sempre di questa azienda Tera e questa è una finitura spazzolata particolare effetto un po' cemento e l'ho realizzata sostanzialmente utilizzando un gruppo di nodi noise adesso il gruppo si chiama Grunge perché anche qui mi sono fatto aiutare da un addon si chiama Fluent Materializer che sostanzialmente prepara dei preset già pronti di texture procedurali sempre in ottica di ridurre quelli che sono i tempi di produzione e poi in un altro gruppo di nodi mi sono creato l'intera palette colori dell'azienda così ha bisogno cambiando solo l'output del nodo color posso andare a cambiare il colore della finitura del vaso questo è un altro esempio sempre di un'altra tipologia di plastica che ho realizzato di recente noi produciamo vasi in plastica riciclata post consumo quindi le miscele sono miste anche di altri componenti che creano questo bel effetto puntinato e per farlo ho utilizzato praticamente due Voronoi Texture che ho utilizzato come li chiamano in gergo nel settore per realizzare i flake presenti all'interno del materiale e quindi poi crearmi anche questa finitura particolare un altro materiale interessante che mi è capitato di recente è questa, è una finitura speciale adesso non so se si vede bene dal video però sostanzialmente è una finitura speciale un po' metallizzata che a seconda dell'angolo con cui la vediamo cambia quello che è il tono di colore con un effetto un po' perlaceo e per realizzarla ancora una volta Blender si è dimostrato all'altezza con il nodo layer weight noi possiamo creare una mappatura dinamica che a seconda del punto di vista dell'osservatore va a creare una sfumatura, un gradiente dinamico che va a crearci poi la variazione di colore sempre in ottica di ottimizzazione questo particolare prodotto è sempre un vaso in plastica però ha una texture effetto pietra realizzarla a livello geometrico sarebbe stata diciamo molto pesante da gestire all'interno del rendering soprattutto magari in scene dove di questi vasi ce ne sono 5 o 6 o 7 e quindi utilizzando due mappature di una texture che ho trovato effetto roccia ho potuto ricreare l'effetto roccia del vaso in modo sufficientemente realistico contenendo quello che è il numero di poligoni finalmente è arrivato l'asset browser di Blender e qui veramente ho avuto una veramente questo è stato il passaggio perché questa era una delle feature che io volevo di più e che mi stavano più a cuore perché la possibilità di crearmi un database 3D dei prodotti delle aziende e tutte le finiture mi permette in modo veramente molto veloce di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza di immagine e di comunicazione e quindi uno dei lavori che sto ancora facendo è proprio quello di popolare questo database aziendale di informativo e grafico che tra l'altro chiunque potrebbe aprire e guardare perché Blender essendo gratuito lo posso installare in qualsiasi computer aziendale e chiunque potrebbe avere accesso a questo database non solo essendo open source e garantendo la possibilità di scaricare anche le versioni precedenti crea un database che può veramente sopravvivere negli anni senza pensieri quindi avendo il nostro modello 3D i materiali e i nostri asset le nostre risorse pronte passiamo a quella che è la renderizzazione dei prodotti quindi a creare proprio quelli che sono i rendering di prodotto questa è una delle tante immagini che ho realizzato appunto e una delle cose che mi veniva chiesta più spesso diciamo dall'ufficio marketing era quella di creare le varianti di finitura sui prodotti anche qui avrei potuto farlo con photoshop o con tante altre tecniche ma io volevo lavorare solo con Blender quindi con la tecnica dell'hold out collection ho potuto renderizzare solo i componenti che mi servivano e passare come trasparenza tutto il resto è importante diciamo perché i componenti si renderizzo solo i componenti ma influenzati da tutte le dinamiche della scena quindi anche dagli oggetti vicini dalle luci e quant'altro ottenendo un effetto molto più realistico del classico viraggio magari di colore fatto con photoshop la scena è semplicissima si tratta semplicemente di una stanza anche a livello di illuminazione l'HDRI è molto semplice vi consiglio l'addon easy HDRI che è gratuito e permette una gestione un po' più agile di quelli che sono gli environment e con una luce appunto che ho fatto un'area lampa che ho fatto entrare dalla finestra ho creato questo mood particolare che mi era appunto stato richiesto dal brief per realizzare questa immagine le camere, utilizzo sempre camere con focali molto grandi perché mi mantengono le linee prospettiche meno distorte riesco ad idealizzare meglio quella che è la foto e anche comunque per dare uno stile all'immagine e queste diciamo sono la configurazione di massima che utilizzavo prima di CycleX per eseguire il rendering quindi come potete vedere cerco sempre di tenere i light bounce comunque non troppo alti fortunatamente l'azienda qui mi ha dato fiducia e avevo anche hardware a disposizione avevo una macchina con due RTX quadro 5000 e quindi potevo esagerare anche con i sample e immagini così riuscivo a ottenere il rendering completo in circa mezz'ora, tre quarti d'ora di rendering quindi in tempi sotto l'ora di produzione a valle un po' di compositing mixo sempre l'immagine diciamo raw cioè quella con il rumore con il denoise per lasciare un po' di grana che aiuta un po' il realismo simulando un po' la grana della macchina fotografica e con il nodo glare do un po' di glow alle luci per idealizzare ancora di più quella che è la scena qui c'è un breve estratto appunto di come vado a settare l'hold out quindi diciamo che tutti i componenti delle scene li racchiudo in un'unica collection e lascio fuori solo i componenti variabili in questo caso i fianchi della stufa e sostanzialmente attivando l'hold out e il transparent poi nel parametro film delle proprietà di rendering voi ottenete che cosa? un'immagine diciamo su fondale trasparente che velocemente poi può essere montata a bisogno anche dai colleghi dell'ufficio marketing lavorando in team si devono anche creare dei file molto strutturati perché non si è da soli nel lavoro e quindi qui poi in autonomia i colleghi potevano esportare l'immagine con il colore che volevano della dimensione che volevano a seconda dell'applicazione parlando sempre di ottimizzazione dei tempi queste fa parte di un pacchetto di scene che ho acquistato fatta da uno dei tanti creatori di Blender e che vendono diciamo i loro prodotti su Blender Market o altri comunque network e appunto qui a rimarcare cosa che l'importante per me non era creare la scena ma avere l'immagine renderizzata del prodotto e quindi con l'acquisto di queste scene ho potuto aumentare ancora di più quella che era la produttività ho dovuto semplicemente inserire il mio modello 3D all'interno della scena configurare una camera magari regolare un po' l'illuminazione ma queste scene diciamo portano via veramente poco tempo rispetto a quello che potrebbe essere l'allestimento di una location fotografica soprattutto per un prodotto di questa tipologia le stufe pesano molto movimentarle è costoso e anche organizzare delle collecce scusate organizzare degli shooting su delle location ad hoc a volte può diventare difficile queste sono sempre scene realizzate appunto con la libreria di asset premium che ho fatto acquistare all'azienda e anche qui delle scene comunque complesse da realizzare anche con la classico sistema dello shooting fotografico questa è una stufa molto grande è una termostufa e qui siamo riusciti diciamo a rappresentarla in un ambiente non solo come un prodotto da riscaldamento ma anche come un complemento d'arredo che quindi va a arredare anche gli spazi non a caso ho potuto anche mettere un radiatore sulla sinistra proprio a rimarcare il fatto che si tratta di una termostufa e non di una stufa standard e che quindi può scaldare anche l'acqua dei termosifoni sostanzialmente un'altra tecnica che mi aiuta molto nel mio lavoro è il clay render ovvero renderizzare tutto quanto con un unico materiale questo mi permette nella fase di sviluppo della scena di scegliere anche con i colleghi il tipo di illuminazione per il prodotto quanto il prodotto risalta rispetto agli altri elementi della scena e sostanzialmente riusciamo a pianificare al meglio quella che è la composizione della scena senza essere distratti da tutti gli effetti magari dei materiali o anche dalle decisioni dei materiali perché cambiando un materiale cambia completamente il mood della scena quindi con questa tecnica diciamo almeno la luce, i volumi e il prodotto è descritto nel modo corretto passiamo poi a vestire la scena con tutti i materiali questo è un altro esempio e appunto vedendo quella che era poi la produttività a livello di immagini con l'azienda abbiamo deciso di realizzare quello che era un pacchetto media o un cosiddetto media pack per ogni singolo prodotto che comprendesse appunto un'immagine ambientata un'immagine still life da diversi punti di angolazione le quali poi combinate assieme permettevano agli altri colleghi di realizzare degli autografici diversi al volo a seconda del tipo di strumento che andavano a realizzare questa è un'altra scena praticamente credo quasi impossibile da realizzare nella realtà nel senso che o troviamo un'installazione di una caldaia fatta ad hoc diciamo pulita e ordinata per creare la foto oppure diventa diciamo difficile gestirla e quindi sempre con Glenda ho potuto rimodellarmi tutti quanti i componenti che mi mancavano e creare la cosiddetta installazione ideale per poi pubblicizzare il prodotto la stessa scena poi l'abbiamo riutilizzata per un altro prodotto sempre appunto cambiando i materiali noi ci siamo generati una nuova ambientazione una nuova location e in questo caso per presentare un prodotto sempre una caldaia però più piccola per un ambiente domestico abbiamo inserito anche appunto un oggetto che facesse da reference per la scala del nostro prodotto in modo appunto da esaltare anche il fatto degli ingombri ridotti di questo particolare boiler si possono far vedere anche immagini diciamo più descrittive creare immagini appunto che premiano quello che è un plus di prodotto in questo caso l'installazione degli allacciamenti idraulici superiori permette appunto quella che è la cosiddetta installazione a filo muro sempre per ridurre quelli che sono gli ingombri nelle abitazioni la stessa scena poi qui mi sono divertito con una cloud simulation a generare quelli che erano i sacchi del pellet e tutto sommato diciamo sono piaciuti e quindi li abbiamo inseriti anche nella scena definitiva non solo scene 3D complete ma anche foto inserimenti con blender perché capita magari che c'è bisogno di un'immagine in velocità diciamo quindi l'ufficio marketing mi passa l'immagine stop che ha deciso dove ambientare il prodotto e grazie a blender e fspy posso dall'immagine ricavarmi quella che è la prospettiva corretta sul quale posizionare il prodotto e poi in blender grazie allo shadow catcher posso ricreare quella che è la parete con l'ombra del mio oggetto da ambientare per illuminare la scena e aiutare a fondere diciamo il prodotto nell'immagine esistente utilizzo la stessa immagine esistente come environment quindi sostanzialmente anche se non è un HDRI mi emetterà comunque della luce del colore della stanza quindi riesco comunque ad avvicinarmi di più a quelle che sono le condizioni di quella scena e con una luce laterale sulla finestra vado a simulare quella che è la luce che entra appunto da quella finestra per creare il colpo di luce sul prodotto e questo sostanzialmente è la scena completata alcune applicazioni di quelli che sono questi contenuti che si possono produrre appunto grazie a blender e che ritengo appunto sia un vantaggio per le aziende la possibilità di creare contenuti ad hoc per esempio tutti quanti quelli che possono essere i siti web aziendali o anche un e-commerce qui poi ho iniziato la mia nuova esperienza lavorativa e vi porto appunto questo caso perché dovevamo andare in stampa con il nuovo catalogo novità e purtroppo non avevamo tutti i campioni da fotografare di queste basi per i vasi e quindi ho preso i disegni tecnici 2D forniti dal fornitore e in blender ho rimodellato queste basi ricreato l'ambientazione che poi è stata riutilizzata anche per ambientare i basi stessi appunto per creare quella che era la pagina di doppia copertina del nuovo catalogo novità e così siamo riusciti anche ad andare incontro a questa esigenza questi sono altri rendering sempre realizzati con blender sempre per andare a popolare quello che era appunto questo nuovo catalogo e questo caso è interessante perché il mio responsabile mi disse ma riesce a disegnare i cactus con blender? io ho detto oddio sicuramente qualcuno è in grado di disegnare dei cactus con blender ma lo sculpting non è mio forte diciamo quindi non mi sentivo tanto sicuro da partire da zero a modellare un cactus e soprattutto per realizzare un'immagine fotorealistica e qui di nuovo la community di blender mi ha stupito perché cercando su blender market a 4 dollari ho trovato un generatore di cactus che praticamente permette di generare infinite versioni di piante grasse e quindi con questo ci siamo sistemati tutto il comparto delle piante grasse a vita contenuti anche dedicati alla continuità della comunicazione delle aziende per esempio sui social di queste due immagini vado particolarmente fiero perché sono diciamo le immagini per i post di auguri di Natalia che l'azienda ha utilizzato nei suoi social e le due immagini sono state create praticamente in una giornata di lavoro tempo di rendering compreso quindi proprio a quello che voglio comunicarvi è proprio la produttività che si riesce ad ottenere con blender anche qui questo esempio sempre la solita esigenza perché comunque in azienda si cerca di organizzare il lavoro si cerca di schedulare ma spesse volte capita l'imprevisto qui avevamo bisogno di un paio di immagini nuove da inserire in dei redazionali e sostanzialmente con un'unica scena ecco questa è la scena è molto semplice è una grande area lamp e un po' di environment ho potuto diciamo crearmi in un unico colpo due set fotografici per creare due immagini che comunque non dovevano andare vicine quindi non si sarebbe mai capito che facevano parte diciamo della stessa scena una curiosità per creare più contrasto al vaso bianco che dietro aveva una poltrona bianca quindi perdeva un po' si perdeva un po' nella scena ho creato dei piani che ho nascosto alla visibilità della camera e quindi nel rendering non si vedono ma mi vengono calcolate quelle che sono le ombre e quindi riesco a disegnare un po' meglio i volumi del vaso e creare appunto questo distacco tra gli elementi di scena abbiamo definito insieme con i miei colleghi la scena studio di default per renderizzare i prodotti still life perché quello che ho cercato anche di passare con rendering è il vantaggio di poter creare delle immagini riproducibili o meglio delle condizioni riproducibili a livello di immagini e quindi realizzare lo stesso prodotto in diverse varianti sempre con la stessa inquadratura sempre con la stessa luce sempre con la stessa posa e questo permette appunto di avere soprattutto quando le immagini sono rappresentate una vicino all'altra una sorta di continuità nello stile grafico della comunicazione questo è un caso interessante qui arriva la chiamata del commerciale e ci dice ragazzi ho un cliente importantissimo che mi vuole comprare un sacco di questi vasi però vuole vederseli così colà con una pianta dentro come facciamo? non avevamo foto e quindi ho detto beh i modelli 3D ce li ho negli asset browser proviamo a imbastire su qualcosa velocemente e in un quarto d'ora sono riuscito a produrre queste due immagini a risoluzione diciamo anche più contenuta ovviamente però che sono servite per mostrare il prodotto al cliente che poi è proseguito e che lo ha anche acquistato non solo rendering di prodotto ma anche dei componenti del prodotto magari per descrivere quella che è una peculiarità del prodotto che normalmente non si vede perché magari è un componente interno che normalmente l'utente non vede in questo caso è il triplo filtro montato sui climatizzatori d'aria appunto a migliorare quella che è la qualità dell'aria e per realizzarmi la retina diciamo del primo filtro ho utilizzato la brick texture di blender che ho collegato nel canale alfa e quindi mi ha generato questo effetto di trasparenza con il quale ho potuto rappresentare diciamo il primo strato del filtro il secondo strato che sarà sostanzialmente una sorta di spugna o comunque un materiale spugnoso ho utilizzato come canale alfa del materiale la mappatura di ambient occlusion che era inclusa con il materiale che mi ha praticamente generato questo effetto di trasparenza con il quale poi ho potuto presentare diciamo il primo elaborato che poi è stato ulteriormente rielaborato dai colleghi quindi appunto blender anche qui si rileva proprio uno strumento integrato in tutta la pipeline di produzione di quello che è un ufficio marketing interno non solo still life o comunque immagini statiche ho avuto la fortuna di poter cimentarmi anche in qualche animazione di prodotto faccio vedere questo breve video anche se non c'è l'audio ma diciamo ci serve più a scopo così ho due minuti e prendo fiato è stato renderizzato tutto con ivi eravamo nella versione 2.83 qui appunto perché non potevo diciamo permettermi i tempi che avrebbe impiegato Cycles il prodotto era una novità e doveva uscire diciamo subito e quindi con tutti quanti gli strumenti offerti da blender a livello di animazione, rigging e quant'altro nello stesso progetto con lo stesso software con cui renderizzavo praticamente le immagini statiche ho potuto crearmi anche le animazioni di quel prodotto riutilizzando lo stesso modello che avevo renderizzato precedentemente prima per realizzare l'acqua è una mappatura normale animata quindi non è una vera simulazione perché avrebbe comportato troppo tempo quindi un po' con la stessa tecnica del fuoco sono riuscito a creare diciamo quell'effetto lì e proprio si rivela versatile il software nel senso che il pellet l'ho realizzato proiettando un'immagine del pellet scaricata da internet e quindi l'effetto che ho ottenuto era sufficientemente realistico da appunto essere sufficiente per presentare il prodotto qualche curiosità in merito a questa scena l'ho organizzata in un'unica timeline quindi mi sono tenuto tutto in un file di blender non avevo proprio tempo di pensare a come organizzarlo e quindi grazie alla gestione diciamo a collection in un'unica timeline mi potevo dividere diciamo gli spezzoni che volevo renderizzare a bisogno per poi seguire anche quelle che erano le varie revisioni al video e i vari cambiamenti e le modifiche che dovevo fare senza dover appunto renderizzare tutto ovviamente andavo a renderizzarmi solo la parte aggiornata se cambiavo un materiale in una delle sequenze ovviamente essendo un unico modello 3D poi dovevo aggiornare anche le altre però comunque questo non si è presentato diciamo come un problema un caso invece particolare che ho visto è che a determinati frame vedevo la sezione che appunto che ho realizzato sostanzialmente animando un corpo booleano che va a tagliare gli oggetti, le geometrie CAD ad alcuni frame funzionava tutto benissimo ad altri mi spariva quella che era il bordo interno della sezione cioè la rim appunto di quel materiale lì e non capivo diciamo bene il perché probabilmente dato dal fatto che la geometria CAD essendo triangolata e avendo una topologia diciamo non ottimale probabilmente creava qualche errore qui nella 2.83 non avevamo ancora il solver exact nelle booleane e quindi non c'era ancora quello strumento nessun problema con Blender ho risolto con uno dei modificatori introdotti credo verso la 2.8 che ha aiutato molto anche il flusso di lavoro diciamo procedurali con i modificatori che è il modificatore WED che sostanzialmente fa una procedura prima della booleana e salda tutti i vertici che ci sono diciamo chiudendo quella che è la geometria e permettendo alla booleana di risolversi in modo corretto questo è un altro video che ho realizzato qui ho sperimentato invece con Psychoist perché comunque l'animazione era diciamo più ridotta se internet mi aiuta è in streaming il video quindi se si blocca un attimo portate pazienza vediamo se riesco ad avere un po' più di e veramente Blender mi ha stupito in questo caso avevo provato quelle simulazioni del fuoco ma non riuscivo a gestire bene la fiamma all'interno del bracciare anche perché avevo una geometria CAD che non era ottimizzata per questo tipo di operazioni e quindi sostanzialmente quello che sono andato a fare è stato intanto piccola curiosità sul materiale della candeletta ho semplicemente animato quello che è una gradient texture che va a mixarmi il materiale standard della candeletta di accensione fino al materiale che avevo definito come incandescenza della candeletta e per quanto riguarda il fuoco ho applicato diciamo lo stesso sistema precedente per le stufe ma in questo caso utilizzando una sequenza di immagini per gestire separatamente la fase di accensione da quella diciamo della fiamma in loop ho mixato due sequenze diverse che poi tramite il mix shader ad un certo punto dell'animazione vanno diciamo a spostare sull'altro materiale quello in loop la fiamma animata anche semplici video per presentazioni alla rete vendita i classici turntable qui è stato interessante perché mi hanno chiesto ma riesci a farmi un fondo bianco trasparente che io possa anche cambiare in autonomia quello che è il fondale della stufa io gli ho detto oddio proviamoci perché Ivi non ha lo shadow catcher o meglio in quella versione 2.83 di Blender non c'era lo shadow catcher per Ivi ma solo per Cycles cercando in internet e nella community ho trovato qualcuno che si è inventato praticamente uno shadow catcher fake con il quale simulare appunto un'ombra sotto al prodotto e renderizzare trasparente tutto il resto e poi questi video sono stati utilizzati dall'azienda appunto per presentare quelli che sono i best seller dei prodotti e qui ci sono vari prodotti che girano vado avanti così magari vi mostro anche altro questo è stato un po' il risultato di tutte le esperienze fatte con le animazioni precedenti è un video a cui tengo molto a cui ho dedicato veramente molto tempo e quindi ci tenevo a farvi vedere un piccolo estratto di questo video e ho utilizzato sempre Ivi per tutto quanto quello che era il rendering Ok, cambia colore Vediamo se riesco ad andare avanti Si possono creare anche contenuti per dettagli e documentazione tecnica quindi Blender si presta veramente nell'utilizzo in azienda praticamente per chiunque produca prodotti anche se l'azienda non ha bisogno di creare magari dei rendering ambientati o contestualizzare i prodotti può essere utilizzato come supporto integrativo per creare delle documentazioni tecniche in questo caso per un'immagine ambientata ma magari per far vedere dei componenti interni del prodotto che normalmente sarebbero difficili da spiegare e comunicare dettagli anche graficamente un po' più accattivanti per mostrare diciamo le varie parti e componenti dei prodotti oppure immagini dedicate magari anche a non il cliente finale ma all'installatore del prodotto che così può vedere il prodotto diciamo nel suo insieme perché normalmente trattandosi di inserti e cammino sono prodotti ai quali gli si vede solo diciamo il fronte davanti quindi quello che c'è dietro non si vede quasi mai ma a un installatore come è costruito dietro questa tipologia di prodotto interessa e interessa anche le varie soluzioni proposte cioè l'installazione normale l'installazione con dei basamenti forniti delle aziende addirittura la possibilità di avere il carico del pellet integrato nel muro e quindi non dover più estrarre il cammino per caricarlo parlando appunto di documentazione tecnica ho iniziato a realizzare delle guide illustrate appunto per il magazzino per creare la corretta composizione di quelle che sono le soluzioni espositive offerte appunto dell'azienda e anche con degli semplici screenshot della viewport io riesco a creare velocemente delle guide che poi vengono messe a disposizione dei colleghi nel magazzino che poi vanno a comporre queste soluzioni espositive un'altra bella pratica che mi piace fare con Blender è quella di studiare e simulare quelli che sono gli stand fioristici grazie all'asset browser viene facile perché adesso avendo tutti i materiali e i prodotti a libreria e anche i modelli 3D velocemente riesco ad andare ad allestire quelli che sono degli stand fioristici potendo studiare quella che è il posizionamento dei prodotti potendo studiare magari quelli che sono gli scorci che si vedono attraverso le stand e andare appunto a pianificare in modo ottimale quello che è uno degli show più importanti dell'azienda cioè la fiera dove va a pubblicizzare tutto quello che produce sono sufficienti appunto anche dei layout fatti così degli screenshot e questi poi vengono passati agli altri colleghi magari che preparano la lista dei prodotti da portare in fiera e di recente quello che impegna di più la mia attività al momento con Blender è quella della realizzazione di spazi espositivi e simulazioni appunto per il merchandising personalizzate a seconda di quello che è il punto vendita o della soluzione espositiva che vogliamo offrire mi organizzo sempre in collection ovviamente così mantengo anche un database di quelle che sono le soluzioni proposte precedentemente e a bisogno le posso variare o integrare con altre variazioni e poi nello stesso file mi sono preparato un'altra scena di Blender dove avviene il rendering della soluzione espositiva in questo modo mi posso istanziare dalla scena precedente le collection che mi servono creare quelli che sono i layout e nel caso variassi una configurazione poi nel layout di render me la ritrovo diciamo già aggiornata e questo mi permette di realizzare sostanzialmente infinite combinazioni di questa che è un wooden display è sostanzialmente un espositore da inserire direttamente nei punti vendita si ottengono risultati molto realistici in pochissimo tempo e questo chiaramente aiuta molto quello che è il processo di vendita del prodotto perché il classico bivaio che si deve mettere in casa la soluzione espositiva vedendosela si rende conto anche del valore che ha questa soluzione espositiva anche a livello di immagine e quindi è più propenso diciamo ad inserirla nei suoi spazi si possono anche progettare delle varianti appunto degli espositori questo è un piccolo studio che abbiamo fatto per valutare l'ipotesi di integrare a quelli già realizzati degli espositori un po' più bassi e questo è un breve video appunto a dimostrare il fatto che con le collection di Blender e la struttura che ha il suo Outliner in modo molto pratico e veloce riesco a gestirmi N variazioni di questo display box che è sostanzialmente un espositore da banco e quindi a seconda delle richieste che ricevo posso andare a configurare quello che è il prodotto ed eseguire poi il rendering questo è sempre il stesso materiale vetro che ho utilizzato prima e questi sono altri esempi qui è interessante perché abbiamo misurato in maniera molto meticolosa quello che era l'incremento dei vasi quando venivano impilati l'uno con l'altro e inserendo quel dato direttamente in un array spento che ho dentro l'asset del vaso quando io mi importo il vaso all'interno della scena ho già l'array pronto con l'incremento corretto e devo solo aumentare il numero delle array per creare la piglia di vasi questo mi permette di intanto fare una simulazione precisa delle altezze che avrà il pallet per capire se lo posso appunto spedire poi perché ci sono delle altezze da rispettare ma soprattutto ha scaricato di lavoro il magazzino al quale prima dovevamo fare un ordine dei vasi che ci servivano andare là ad allestire quella che era la soluzione misurare il tutto e poi appunto fotografarla per presentarla ai clienti quindi con questo sistema riusciamo a realizzare infinite simulazioni di quelle che possono essere le soluzioni espositive da inserire nel punto vendita e andare incontro alle esigenze sostanzialmente di qualsiasi cliente anche allestimenti che vanno ad arricchire quelli che possono essere degli showroom creati sempre per pubblicizzare il prodotto e appunto anche qui con Blender con un unico modello di uno scaffale cambiando solo le texture in input su quei piani io posso cambiare quello che è la comunicazione presente a scaffale e generarmi appunto la configurazione che mi serve in quel momento molto importante per la grande distribuzione per esempio loro hanno degli scaffali standardizzati e sono molto fiscali su quello che è lo spazio da occupare con i prodotti all'interno dei loro punti vendita e quindi ho realizzato, ho rimodellato seguendo le misure standard gli scaffali del GDO e qui poi abbiamo potuto creare diverse layout appunto sempre per dimostrare come poteva essere integrata la soluzione all'interno del punto vendita qui un esperimento abbiamo provato a realizzare un piccolo showroom interno diciamo ad un punto vendita e queste sono le varie immagini che poi sono state presentate appunto al cliente soluzioni appunto per il merchandising quindi le possibilità di creare quelle che possono essere bandiere banner, crowner, fianchi quindi tutti quegli elementi che da grafico creavo in 2D ora li posso portare in 3D e quasi toccarli con mano posso anche creare dei documenti illustrati un po' più tecnici e professionali da poi passare a un eventuale fornitore che deve produrre poi effettivamente questo prodotto la possibilità di vedere anche come il merchandising va a lavorare con le diverse soluzioni quindi capire qual è lo sfondo migliore magari della comunicazione da utilizzare perché non si perdano il resto della composizione e Blender veramente si è rivelato l'asso nella manica per produrre questa tipologia di contenuti illustrazioni difficilissime da realizzare con una fotografia credo, almeno io non sono un fotografo quindi non saprei da dove partire per realizzare una cosa così questo è lo schema per far vedere appunto un class del prodotto che è la riserva d'acqua presente sui basi che praticamente sostanzialmente permette di curare la pianta tra virgolette senza pensarci troppo diciamo l'indicatore di livello ci indica quando la pianta ha acqua e quando no e quindi ridando da lì noi possiamo mantenere la pianta sana illustrazione che poi è servita per creare appunto la comunicazione a scaffale per il prodotto un altro caso studio questo è sempre un prodotto prodotto dell'azienda è una borsa, diciamo quindi esula un po' da quello che è il mercato dei vasi è un prodotto interessante perché è un agglomerato di plastica riciclata sempre sostenibile con inserito all'interno quello che è del materiale di sughera dallo scarto dei tappi del sughero e per questo prodotto abbiamo potuto sviluppare assieme all'ufficio marketing tutto quello che era le cose a corredo quindi gli espositore, il visual comunque in questo caso non c'era il modello 3D neanche per i vasi quindi ho dovuto rimodellarmi un po' tutto seguendo le reference e con le misure diciamo prese, diciamo rilevate sul prodotto reale e poi ho ricreato appunto il materiale con quell'effetto sughero interno la scena, questo è un po' un riassunto di tutta la procedura che si ha con un prodotto fino ad arrivare a delle esplorazioni diciamo un po' più creative e idealizzate magari per creare dei layout sui siti web altre prove con degli espositori e qui diciamo concludo con non solo il lavoro perché con Blender diciamo è diventata letteralmente una passione mi diverto anche a produrre qualcosa di mio a casa fuori dall'orario di lavoro e appunto avere lo stesso software che mi permette di creare quello che mi appassiona di più anche al lavoro mi permette di trasferire quelle che sono le varie tecniche che apprendo dai vari mondi quindi magari realizzando immagini di questo tipo qui apprendo tecniche che poi posso portare sul posto di lavoro e integrare magari per un prodotto o per altri scopi grazie 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 Grazie.